Un'opera da oltre 3 milioni di euro per collegare il centro di Teramo con la frazione di San Nicolò, passando per le principali stazioni ferroviarie degli autobus e il progetto di mobilità sostenibile che il Comune ha avviato con i fondi PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di una ciclovia urbana di 12 km che non sarà una semplice corsia ridotta, ma una vera e propria strada riservata alle biciclette. Un lavoro lungo, finanziato dal Piano Nazionale di Resilienza, proprio la misura delle ciclovie, connetterà San Nicolò al centro di Teramo, agli hub intermodali previsti anche dal Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Quindi parliamo del piazzale San Francesco, il piazzale hub dei Pullman, con la stazione dei treni per poi passare su Via Po e passare poi accanto alla ferrovia fino alle stazioni ferroviarie di San Nicolò fermandosi in vari punti, compreso anche veterinari. È proprio un'azione che è mirata alle città universitarie per collegarle con la mobilità attiva in maniera più sostenibile e agevole. Ed è una misura che abbiamo immediatamente colto proprio perché era importantissimo collegare la periferia della città verso est al centro storico. Il comune dovrà rispettare tempistiche stringenti, in base alla quale l'opera dovrà essere completata e rendicontata entro il 2026. La ciclovia è pensata soprattutto per gli studenti, che li metterà in comunicazione con il termina degli autobus in piazzale San Francesco, il capolinea ferroviario in Viale Crispi e la stazione di Piano Daccio dove si trova la facoltà di veterinaria, il centro commerciale e lo stadio Bonolis. Inoltre ci saranno anche collegamenti con le scuole del centro. A maggio o giugno dovrebbero iniziare i lavori. È chiaro che nel mese di giugno faremo i tratti quelli più interessati anche dalle scuole, vicino alle scuole, proprio per evitare tutti i disagi e chiaramente poi i lavori dureranno fino alla realizzazione completa. Adesso non sappiamo dare un termine per i lavori, ma sappiamo che tra maggio e giugno potrebbero iniziare. È un lavoro importante chiaramente su un tratto che comunque è già pronto per essere lavorato perché comunque accanto alla ferrovia ci sono gli spazi utili.